ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video della strada dei circuiti oggi una parola del circuito watkins glen international questa è la mappa del circuito il watkins glen international è un autodromo situato vicino all'omonimo paese nello stato di new york all'estremità medionale del lago seneca ha ospitato 15 tizze del gran piano degli stati uniti d'america dal 1961 al 1975 e 5 del gran piano degli stati uniti d'america est di formula 1 dal 1976 al 1980 il circuito è stato anche sede per più di 50 anni di un gran numero di gare automobilistiche praticamente di tutte le classi su questo circuito del certo turno vittime di due incidenti mortali il francese franco zelert e l'austriaco helmut coining rispettivamente nel 1973 e nel 1974 mappe del circuito e questa è tutta la storia del circuito watkins glen international se il video vi è piaciuto come sempre mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao